allora noi ci dobbiamo vedere assolutamente mercoledì 3 agosto a borgo conti della torre a morsano perché faremo una serata villa b straordinaria dove insieme a un altro mio caro amico cucineremo faremo degli show cooking ci sarà tanta bella musica ci saranno drink e ci sarà comunque bella gente quindi noi vi aspettiamo alle ore 21 appunto a morsano al tagliamento villa b ma soprattutto io e colui che sentirete anche adesso che è un mio caro amico abbiamo fatto un taglio strategico di cappelli uguale per voi perché vi aspettiamo sempre mercoledì ore 21 morsano al tagliamento villa b borghi conti della torre non mancate adesso sentite lui ciao qui ci sono mattia poggi e vi aspetto mercoledì sera 3 agosto alle 21 presso villa b borgo conti della torre a morsano per una serata di festa con tanta musica e buona cucina in compagnia del mitico fabrizio nonis io vi aspetto mercoledì non mancate ciao